TAE Organic Care, rituale purificante, grasso, trattamento 15 minuti. Iniziamo facendo un'analisi del capello. In questo caso abbiamo cappelli lunghi, fini, con cuoio cappelluto grasso e lunghezze e punte secche. In questo caso realizzeremo il rituale di bellezza purificante e, per potenziarne gli effetti, aggiungeremo Organic Care olio essenziale di bergamotto per le sue proprietà equilibranti e sebo-regolatrici e Organic Care olio essenziale dell'albero del tè per il suo effetto antisettico e sebo-regolatore. Laviamo i capelli con Organic Care Original Shampoo, due passate. Nella seconda passata aggiungiamo allo shampoo quattro gocce di Organic Care olio essenziale dell'albero del tè e realizziamo un leggero massaggio con movimenti circolari, senza esercitare pressione per non attivare le ghiandole sebacee. In questo caso iniziamo dalla nuca verso la parte frontale. Continuiamo prendendo ciocche fini di capelli, le accarezziamo e le tiriamo delicatamente, esercitando una leggera tensione alla radice. Risciacquiamo con abbondante acqua e tamponiamo i capelli. Misceliamo nel palmo della mano cinque dosi di Organic Care Nutrition Mask, più quattro gocce di Organic Care olio essenziale di bergamotto. Applichiamo su lunghezze e punte, distribuendo il prodotto in modo uniforme con l'aiuto di un pettine. Lasciamo agire due minuti. Risciacquiamo con abbondante acqua e tamponiamo i capelli. Per rifinire, sui capelli umidi, applichiamo due dosi di Organic Care Infinium Pomata, distribuendo uniformemente su lunghezze e punte, per apportare idratazione extra e dare forma. Procediamo realizzando lo stile desiderato. Per il mantenimento a casa di questo trattamento, possiamo raccomandare questi prodotti della linea Thai Organic Care, Organic Care Original Shampoo, Organic Care Nutrition Mask o Organic Care Radiance Conditioner, Organic Care Olio Essenziale di Bergamotto e o Organic Care Olio Essenziale dell'Albero del Tè, da miscelare con Organic Care Original Shampoo.